Di qua? Di più. Di più. Aia. Tu l'hai teso qua? Aia. No. Adesso ti aggiusto. Tieno uno. Ma male? Ma male. Eh lo so, mi dispiace. Ecco lì. Ok. Questo dovrebbe aiutarti a rilassare. Una morbida, morbida. Due di ore. Eccolo qui. Due di ore. Eccolo lì. E poi stimoliamo un po' proprio il muscolo a rilassarsi. Unlock your full potential at Crack Addicts. Oggi è venuta a trovarci Eva che vuole fare un trattamento chiropratico per cercare di risolvere l'emicrania destra, una vecchia sciatica destra che adesso compare e scompare, vi ho detto, no? E poi mi ha parlato anche un po' del colon irritabile. Ok. Qualche domanda prima di iniziare. C'è qualche cibo in particolare che notiti? Il glutine e l'ottosio. Ok. E li assumi? No. Non più. Quindi li tolti? Però evidentemente c'è anche altro. C'è anche altro, sì esatto. Non hai mai fatto test di intoleranza? No, ma li so per fare. Ok. Ma comunque molti cibi mi attivano dei dolori. Ok, perfetto. Allora adesso, in attesa del test, cerco di capire un attimino come si sta comportando il colon nel vedere se c'è qualcosa che posso fare per aiutarti. Iniziamo sulle bilance, quindi ti faccio passare da qua con i piedi sopra le impronte, esatto, in modo speculare. Guarda dritta. Adesso vediamo come sei allineata. più alta la testa a sinistra. La spalla a sinistra segue la testa. Alzo poco poco. Potresti avere fastidio qua se non sbaglio? O qua? Sì. Ecco, beccato, perfetto. Ok, scendi pure. Morbida. Guarda dritta. Lascia abbandonato come... Peso morto. Qui va bene. Morbida. Ok. Ok. Inclinando. Tu lavori, studi? Sì. Lavoro. Lavori. Allora. Fastidio qua? Sì. Molto. Molto. Qua di meno, vero? Sì. Se vengo su, fastidio qua? Un po'. Di qua? Di più. Di più. Se vengo in mezzo dovrebbe invece essere passare a sinistra e qua essere un po' meno doloroso. Sento. Mi leggo i capelli? Hai il elastico? Perfetto, sì. Mi faresti un favore, grazie. Rilassata, ti sposto un po'. Io sto sentendo come si muove la tua colonna vertebrale, ok? Mhm. Sembra muoversi benone, ti dico la verità. Allora hai questa gamba leggermente più corta di questa, la destra. Te lo faccio notare alzando le gambe. Tu lo noti qua dai malleoli. Ci fai caso? Totalmente. Sì, questo. Però poi ruotano bene. Alla luce di quel che ho visto dovresti avere un po' di tensione qua? Sì, molto. Qua meno, vero? E poi si dovrebbe invertire qua meno. Aia! Scusami. Sì, qui no. Quanti dolori che non sapevi di avere, eh? Piero. Se vengo sul linguine, dovresti avere un po' qua? Qua meno. Meno. Ma sai perché? Perché il colpo è più sotto. Posso? Vai, vai. Fastidio? Sì. Qua meno. Meno. Ok, gamba corta a destra, quindi dovresti avere il piccolo pettorale teso qua. Aia. Meno. No. Mano qua. Mani. Vado a colpo sicuro? Sì, c'è una piccola differenza. Ok? È un po' più corta a destra. Tutto a destra. Questo è un test, eh? Ok. Mani qua su. Adesso sono perfettamente pari. Ok. Allora, la gamba corta sciatica è questa. Guarda caso la destra. Sì. Ok, è un po' diminuito qua, eh. I riflessi in generale lo sono. Mettiti così. Adesso. Tira le mani. Stringi i denti. Ok, adesso parte. Rifallo. Qua un po' meno. Su. Spingi. Spento questo, eh. Spingi. Non ce lo faccio. Hai mai preso una slogatura qua? Molto probabilmente. Ne prendo 3.000. Spingi su. Adesso ce la fai. Abbiamo visto che quando ruotavi la testa di qua eri debole. Sì, infatti lui mi fa male. Qui, vero? Ok. Faccio una piccola correzione, ok? Assolutamente senza dolore. Sentirei un po' di suono. Morbida? Aia. Come aia? No, aia è perché è una cosa strana. Rumore? Sì. Ok. Mani. Piega le gambe. Gira di qua. Gambe di là. Spingi. Ottimo. Inverti. Inverto. Spingi. No, perfetto. Ok. Morbida. Devo fare un piccolo massaggio sul piccolo pettorale, perdonami. Fa male, eh? Fa male. Eh, lo so, mi dispiace. Che lavoro fai, Eva? L'attrice. Ah. Però sto molto tempo seduta perché produco anche musica, quindi ore e ore. Ore e ore seduta. Ci vai a Venezia? Adesso c'è la biennale? C'è già ora. Ah, lo so. Però ho deciso di stare su progetti. Stai sul progetto tuo? Brava. Sì. Eccolo. Lì, più su, sì. Perdonami. Lì, ma lì. Non ci torni più dal chiropratico, punto. Ok. Quindi. Proprio da assumere, da bere? Cioè quella vera? Io quando ho l'intestino infiammato, sì, me ne bevo più o meno mezzo vetro al giorno. Succo di aloe, parlo, eh? Sì. Adesso ti aggiusto. Qui l'avevamo già fatto perché ti inibiva il muscolo. Qui c'è uno. Lascia. Ok. Mano qua dietro. Rilassata, rilassata, rilassata. Eccomi. Male? No, piacevole. Ok. Rilassata. Ok. Hai mai fatto lavori con i denti? Ho levato i denti da giudizio. Tutti e quattro? Due. Due non ne ho. Ok. Dove le hai tolti? Sotto. Questo dovrebbe aiutarti a rilassare la muscolatura del volto. Se è troppo me lo dici, eh? No, no. Un po' di scollamento. Piega il mento verso il petto. Ok, lascia. La morbida, morbida. Ecco, ho fatto. Wow. Piaciuto? Sì. Qua? Sì. Ecco, è inferiore allora. La vertebra è andata così. Prima ti sblocco l'osso sacro, poi vediamo la vertebra. Vieni sul fianco sinistro per piacere. Porta il braccio avanti, bravissima. Qui, quando si fanno queste correzioni, non è che basta fare crack e si risolve il problema. No, certo. Serve sapere esattamente i vettori da adottare durante la correzione. Nel tuo caso l'osso sacro l'ha portato così, già andato e poi posteriore. Eccolo qui. Stupendo. Visto? Cosa? L'aggiustamento o il dottore? Questo aggiustamento è stato... Ah, l'aggiustamento. Vieni qua. Stessa cosa? Yes. Non mi ricordo come si fa. Ci penso io. Stessa cosa, simile, perché devo prendere un altro contatto. Eccolo qui, la quarta lombare, quella che ti dà noia a te. Lascia. Devo andare superiore, non posteriore, ma superiore. Eccolo lì. Pancia sotto. Sai tutto. Restano pari. Ok? Poi non so se avrai fastidio qua. Sì. Ecco. Questo muscolo era quello che testavo prima quando toccavi il pube, ok? Ok, è lo stesso. Esatto, sì. E mi fa malissimo, è il peggiore. E il riflesso che davanti è sul pube, di dietro è qui, tra il bacino e la quinta lombare. Fa male? Un po'. Ok. E poi stimoliamo un po' proprio il muscolo a rilassarsi. Troppe ore seduta? Tantissime. Così, rilassata? Wow. Colpo di tosse. Calcia su. Spingi. Spingi su. Ok. Rilassata. Lascia a me. Vediamo se... No, le spalle stanno bene, non sono bloccate. Io controllo sempre. Lascia. Perfetto. Mani così. Bello questo dell'orecchia. Sì, ti apre tutto, vero? È utilissimo per l'equilibrio. Aiuta un sacco le persone a recuperarlo, alle persone che l'hanno perso e le persone che già ce l'hanno a non perderlo. Spingi lentamente il tuo gomito indietro. Colpo secco, veloce, forte. Guardami, guardami, devi fare questo. Ah, ok. Vai. Ok, dammi l'altro. Prima lentamente, adesso veloce. Ecco fatto. Riproviamo di là? Prima lentamente, vai. Eccolo là. È tutta tecnica. Mani così, girata di schiena. Chiudi i gomiti davanti a te, tieni stretti stretti, testa giù. Fatti tirare, non camminare, ti tengo io. Stretti i gomiti. Ok. Perfetto, Eva. Come ti senti? Grazie mille. Ci sono... Insomma, non vedo ostacoli alla remissione totale. Va bene? Grazie. È stato un piacere. A lei. Grazie a tutti.